L'idea del film è nata più o meno due settimane prima che scoppiasse il lockdown che abbiamo vissuto tutti. Quindi era un periodo in cui c'era questa minaccia incombente ma nessuno sapeva che cosa sarebbe successo. Mi sono ricordato di un libro che avevo lasciato, che non avevo finito di leggere, che era Pesce di Cambio. L'ho ripreso in mano e mi sono reso conto di quanto potente fosse quel racconto che in realtà stava spiegando quello che ci stava succedendo e volava anche più alto in alto facendo una riflessione più profonda e anche più complessa. E detto questo abbiamo iniziato le riprese e non appena è scattato il lockdown, quindi quando la città era vuota, presidiata solo dall'esercito e dalla polizia. In quel periodo ci sono successe delle cose e mi hanno fatto capire di quanto anche quei momenti sarebbero stati importanti per integrare il testo di Cambio. Noi possiamo pure dire che si tratta di un'influenza, a piacere vostro.